Alle 15 in punto di questo pomeriggio in una chiesa di San Cristoforo, satura di gente, il Feretro, in legno chiaro di Filippo Tranquilli, ha fatto il suo ingresso in chiesa. Uno scrosciante e fragoroso applauso ha spezzato il fiato alle centinaia di persone che hanno voluto salutare l'istrionico cantore di Fano che fin dalle 14 hanno incominciato ad arrivare sul sagrato della chiesa. Tutta Fano era presente per quest'ultimo saluto a questo dispensatore di amore e di buon umore, come ha detto nell'Omelia Don Mauro Barnesi che ha ufficiato il rito funebre, chi ha seminato amore non può morire e sicuramente Filippo non morirà nelle centinaia, migliaia di aneddoti che lo riguardano. E anche oggi correvano di bocca in bocca i suoi cappelli colorati, i travestimenti, le barzellette in dialetto, un sorriso e una parola buona ce l'aveva per tutti. Il fratello Luigi, nella lettera di saluto a Fili, come lo chiama, così come aveva fatto per i genitori, ricorda di come lui sia stato uno sprone e un incoraggiamento quando era più piccolo, di come poi parlasse sempre delle ricette di mamma e papà e che una giornata iniziata con Filippo davanti a un caffè era una giornata speciale. E su questo ne siamo convinti tutti noi che abbiamo avuto il privilegio di passare, chi più chi meno, un pezzetto di vita con lui. Anche il sindaco di Fano, Massimo Seri, ha voluto salutarlo dal pulpito. Penso che a Filippo, ha esordito un emozionato primo cittadino, faccia piacere ricevere le parole del suo sindaco, dopo che lui ne ha avute tante di parole buone per il sindaco. San Cristoforo non ce l'ha fatta contenere gli amici delle compagnie teatrali con i quali ha calcato le tavole del palcoscenico e di ciac cinematografici. Non ce l'ha fatta contenere i conoscenti e le personalità cittadine ad ogni livello che hanno voluto esserci oggi. San Cristoforo non è riuscita a contenere anche i colleghi di lavoro di Filippo, 35 anni, nella Guardia di Finanza e poi, una volta in quiescenza, nella sezione pesarese dell'Anfi. Colleghi che, oltre al saluto, hanno letto la preghiera del finanziere con un emozionato picchetto d'onore con bandiera listata a lutto. E sono stati gli stessi finanzieri che, alle 16.30, hanno portato a spalla il feretro fuori dalla chiesa, da dove poi è partito, alla volta del cimitero centrale. Ora le braccia aperte non sono più le sue, ma quelle degli angeli ai quali racconterà certamente una barzelletta. Naturalmente! Ciao Fano!